Sarebbe stato il marito della vittima, Salvatore Maritato, l'obiettivo dell'agguato in cui nella tarda serata di ieri a Sibari, frazione di Cassano all'Oionio, è stata uccisa Antonella Lopardo, di 49 anni. La donna è stata colpita attraverso la finestra, non ha mai aperto la porta di casa che tra l'altro era blindata. Gli assassini armati di un calasci nei coffi di una pistona hanno sparato nel momento in cui hanno intravisto un'ombra profilarsi da dietro una tenda attraverso una finestra. E ritenendo che si trattasse di quella del marito, che tra l'altro si trovava nella stessa stanza, hanno aperto il fuoco, trivellando la donna di colpi. A complicare la situazione poi è stata anche l'oscurità che regnava nella zona. Dunque è da escludere tra l'altro che gli assassini abbiano sparato sapendo che i colpi avrebbero raggiunto e ucciso Antonella Lopardo. Da qui l'ipotesi fondata che i due assassini volessero uccidere in realtà Salvatore Maritato, un'azione di cui gli investigatori stanno esaminando attentamente, movente e dinamica. Anche perché la personalità criminale di Salvatore Maritato non particolarmente spiccata non giustificherebbe, secondo quanto emerso alle prime indagini, un'azione omicida così eclatante.